Ciao a tutti e bentornati sul mio canale su youtube e oggi vi farò vedere un modellino inedito della D'Agostini primo uscito a 50 centesimi anzi di 11 euro e vediamo subito i componenti questa è la due cavalli charleston della citroen è un modellino un po particolare nel senso che io non lo farò era una sorpresa giusto per farvi vedere è una cosa che sponsorizzo solo la prima uscita chi lo vuole comprare è già inedicola e forse è già anche finita perché c'è già la seconda uscita io ho fatto un po di ritardo con l'uscita e tutto comunque è un modello fedele all'originale parti in metallo e plastica sterzo fari e crasson funzionante quindi suona anche il crasson allora vediamo un attimo nel dettaglio dietro prima di iniziare a farvi vedere tutto purtroppo in questa uscita fa un po schifo perché c'è solo il cofono però nella seconda uscita che esce tra due settimane come vi ho detto che è già uscita c'è il fascicolo più lo pneumatico più il cerchione anteriore forse comprerò anche la seconda adesso devo vedere anche se lo voglio fare o no devo vedere è un po particolare però nella mia collezione non mi interessa molto massimo realismo potete fare l'abbonamento e ve lo consiglio di farlo l'abbonamento però io se lo faccio lo faccio in edicola e magari lo prendo sul prima edicola più avanti comunque volevo vedere quante allora nella seconda uscita costa 5 euro dalla tassa in poi sono 11 euro sono 110 uscite e così è un modellino un po particolare nel senso che io non lo farò del tutto mi sa perché fa schifo come macchina fa proprio schifo poi il materiale non mi pare è buono però non mi piace proprio come è fatto il materiale il colore proprio lasciamo perdere scala 1.8 come le altre e riproduzione fedele della 2 cavalli c'ha Alderson nella carosseria nei componenti interni e nella meccanica qua ci sono portiere e finestrini con dispositivo di apertura e chiusura quindi avete un pulsante questa è una cosa fatta veramente bene e con geni e all'altra che mi pare che con kit non lo fanno ancora poi c'è finitore finiture e dettagli riprodotti nei minimi particolari motore e meccanica identica all'originale mi pare che ho visto che nella quinta uscita c'è il motore sinistra ad assembrare una parte del motore poi dopo si va avanti sedili imbottiti bagagliaio con cric e ruote di scorta attenzione cric anche poi con il fascicolo e nei fascicoli ricamente illustrati alla collezione oltre alle istruzioni per il montaggio scopriremo anche l'universo citroen con la sua storia e i suoi protagonisti e la gamma di modelli 2 cv che è questo 2 cavalli che vuol dire della casa di cui la chalerson è stata la versione più conosciuta fantastico e giriamo l'uscita e prima di iniziare vi faccio vedere il libro e poi vediamo la sua stella con il cofano la prima uscita c'è il cofano solo il cofano davanti vi faccio vedere anche il materiale dopo vediamo se è buono di qualità perché io non so è la prima volta che lo apro so che ci hanno detto molti che è buono come materiale però non lo so adesso lo metto un attimo da parte scusate e vediamo il fascicolo lo apriamo mettiamo via anche questo che non ci serve questo è il primo libro che dopo lo vediamo poi c'è se vi abbonate con la solita storia che se vi abbonate con la di agostini premium c'è una tica da 73 x 28 x 34 cm e l'altezza sarà 73 x 28 e la la larghezza e la boh non lo so utile ed elegante questa preziosa teca è l'ideale per proteggere ed esporre il tuo modello di citroen charleston 2 cavalli in scala 1.8 allora se volete abbonarvi dovete andare sul sito www.d'agostini dove si ordinano gli abbonamenti e aggiungendo solo un euro in più dal partire dal numero 4 ve la danno la teca esplositiva fra un po' mi arriverà quella di kit non posso dire nient'altro la di kit perché le vedrete anche lì di sorprese tante allora poi se volete chiedetemelo che io ve lo spedisco però non qua magari su instagram scrivetemi in privato ovviamente che se volete questo a fare questo abbonamento io vi do il foglio per compilare così vi è anche più comodo che io ve lo do gratis il foglio lo compilate voi tranquillamente dopo fate voi con il primo invio io vi do anche gratis componenti della ruota anteriore sinistra più fascicolo a 5 euro con con il primo invio a no e con il secondo componenti del motore più fascicolo gratis però io non ho capito bene quindi primo invio cosa si danno ah se ordinate dalla prima uscita voi ordinate ovviamente dalla seconda quindi seconda e tassa dopo io deduco comunque si inizia ad usare il motore e c'è anche un calciavite la seconda non c'è molto da montare neanche la seconda come vedete schifessa non mi ispira per nulla questa macchina ho solo preso il primo sito giusto per vedere com'era il materiale e sponsorizzare per fare più visualizzazioni tutto qua ricevi a casa ok c'è la tassa vintage se fate vi abbonate tre stampe d'epoca dei post che fanno veramente schifo anche queste perché è una macchina molto molto antica questa qua purtroppo il raccoglitore per i fascicoli ovviamente e se vi abbonate con la carta di credito se io lo faccio io farai con questo con la carta di credito mi abbonerai che non spendete la spesa di dispedizione sono tutte gratis in tutta la opera più 7 attrezzi 45 in 1 quindi 45 attrezzi avete capito bene 45 attrezzi e qua è la scheda per compilare tutte le soluzioni ok poi cosa sta allora è il libro e la guida alla collezione vediamo un attimo un po' va vai io non so allargere niente perché non mi interessa nulla di questa macchina scheda tecnica allora è scala 1.8 lunghezza 479 mm è una minuscola macchinina ecco la ghessa 185 mm la ghessa 197 mm è piccolissima cioè è il mini della delorean presente la delore ecco è la mini materiali di ottima qualità sospensione fare luci di posizione funzionale adesso andrò più avanti in seguito ai miei video andrò anche più avanti con la delorean con ironman con kit con tutto con kit forse lo porterò sempre qua su youtube però non si sa ancora devo ancora capire il punto dove faccio più visualizzazioni lo metto effetto sonoro crasson volante che stessa le ruote eccetera forse anche l'orient perché ho visto che molte visualizzazioni vanno di più di qua che su instagram su instagram faccio poche visualizzazioni io guardo anche molto quello montaggio guidato step by step quindi avete montaggio guidato sicuramente tranquilli che in ogni uscita vi danno le soluzioni esatto e poi si può personalizzare con il vostro nome con quello che volete la targa e questa è una cosa fenomenale fantastica a parte questo si ha delle buone caratteristiche questo modellino però io non lo farò veramente la seconda uscita adesso mi è passata la voglia perché la volevo comprare domani invece non la prendo perché mi fa veramente schifo non domani un giorno comunque qua parla della storia che mi hanno un miterast ovviamente io non lo leggo lo tengo nuovo di ma non lo leggo così qua è il cofono che in una delle prossime sezioni cioè di lavoro dobbiamo ricevere la calandra e la targa e dobbiamo conservarlo in un posto sicuro c'è una schifezza c'è solo il cofono mi aspettavo di più veramente veramente di più almeno kit per tirare il cofono nella prima uscita giusto per vedere come vi ho detto il materiale tutto ci sono altri modellini come avete visto però l'abbiamo montato come avete visto però l'abbiamo montato perché ci sono i cernieri c'è tutto una schifessa ha una schifessa di modelli qui fate come volete io non vi dico nulla io sto sponsorizzando un prodotto io vi dico come la penso io poi fate voi se lo volete prendere fatto tutto accomodatevi io non lo faccio quindi non lo porterò sul canale assolutamente solo al primo sito giusto per vedere come vi ho detto il materiale tutto ci sono altri modellini che sono uscite adesso che sono migliori ho visto però non posso spoilerarmi molto allora vediamo eh apriamola a questo cavolo di fustelle che voglio vedere i componenti allora andiamo ne parliamo un po' tanto mi è arrivato con un graffio la vernice proprio aspettate che tolgo perché devo pulire ok l'ho pulita perché era sporca qua praticamente c'era un graffio guardate è graffiata cioè non è arrivata graffiata ho avuto la sfortuna di averla graffiata se guardate contro luce ecco qua si vede bene è in metallo ovviamente per fortuna finalmente devo dire la verità mi pensavo peggio la verità è questa però io non lo faccio è abbastanza tosto con la sua fustella si sta dai come si presenta è buono è buono adesso vedrò in un futuro se boh la metto qua da parte la conservo poi se qualcuno mi contatti in privato chi lo vuole questa uscita io gliela do però deve pagare è inutile 50 centesi non posso fare di meno non posso fare di più non posso regalarle bisogna calcolare anche le spese di spedizione si ma saranno pochissime io glielo spedisco quindi iscrivetevi al canale è anche durato poco una scrittura come ho detto quindi fate come volete mettete mi piace al video se vi è piaciuto io direi un bel no secondo me se vi piace il modellino mettete mi piace fate con calma se non vi è piaciuto mettete non mi piace comunque scrivetemelo qua sotto anche nei commenti se vi è piaciuto no o meno attivate la campanella per le notifiche iscrivetevi al canale mi raccomando siamo sempre in tanti voglio almeno quattro iscritti e arriviamo al video speciale mi raccomando trovatemi quattro iscritti avete capito? quindi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao al prossimo video ciao ciao